Ciao raga, sono Valentina Lattanzio e oggi ho intenzione di fare uno scherzo a Franci Praticamente è da tre giorni che facciamo le pulizie qua in casa E oggi ho intenzione appunto di sporcare tutto il pavimento Quindi butterò della terra, della farina, un po' di cose E poi dopo aver sporcato tutto sicuramente Franci ritornerà a casa Perché in questo momento è andata a fare una visita E ci sono io che spunto con... Tadadadam! Guardate che cosa mi ha inviato Ecovacs Mi ha inviato questa fantastica aspirapolvere intelligente che si chiama Debot T8 Hanno veramente progettato degli aspirapolveri in grado di fare tutto il lavoro al nostro posto Cioè io quindi posso rilassarmi, posso passare più tempo con il mio ragazzo Posso stare stravaccata sul divano perché ho lui che gira per casa da solo e pulisce tutto Ma non è finita qui perché non è un semplice aspirapolvere normale Ma oltre ad aspirare lava anche il pavimento E guardate che cosa utilizza Sotto io posso mettere il panno che mi lava tutto il pavimento Cioè guardate che bello Praticamente questo qui lo si aggancia sotto E praticamente questo straccio vibra così Ha il velcro, guardate Ma la cosa più assurda è che questo aspirapolvere si svuota da solo Questa è la stazione di svuotamento Quindi la mia aspirapolvere Debot T8 una volta che finisce di pulire tutta la casa Ritorna qui e quando il serbatoio è pieno L'applicazione mi avvisa che comunque questo è da svuotare Guardate come si apre Qua dentro comunque c'è il sacco Guardate Che poi si va a riempire tutto Comunque qua c'è tipo un filtro all'interno dell'aspirapolvere Che scarica tutto, sale e questo qui si riempie È stupendo raga Prima voglio provarla io Prima di farla vedere a lui Perché non l'ho ancora provata, capito? Cioè ho scaricato già l'applicazione sul mio telefono Ovvero l'applicazione Ecovacs Però non l'ho ancora provato Guardiamo subito come funziona Mi raccomando Quando l'attaccate alla corrente ci deve essere spazio Sia di lato E anche qua davanti Infatti noi l'abbiamo messa qua vicino alla porta Così c'è un po' di spazio Cosa dice? C'è raga io ero qui che aspettavo Ma sapete perché non va? Perché mi sono dimenticata di aprirlo Questo è per accendere Ah raga guardate che bello Questa qui è la scatoletta che si riempie Qua dentro va a finire tutta la polvere Siete pronti raga? Eccola ragazzi L'avete visto? Bellissimo No vabbè Cioè ma Franci quando vede questa impazzisce Vedete che lì ci sono le spazio Guardate che avendo gli ammortizzatori Sale anche sulla lampada Non ci credo Oh finalmente Ho pure un aspirapolvere che sale sulle cose Ma che si sta infilando Là sotto Ma prima di impacchettarlo Perché secondo me tra un'oretta Franci ritornerà Perché appunto è andato a fare una visita Vi dico qualche caratteristica Di questo aspirapolvere Perché è veramente una cosa Troppo bella Cioè io non ci credo Ho passato tutta la vita A passare l'aspirapolvere così E invece Ci sono questi robot pazzeschi Cioè io non mi devo nemmeno Sforzare per pulirlo Perché c'è per la stazione di svuotamento Ma nemmeno per lavare il pavimento Mi avete risolto la vita Devote C8 È dotato di una tecnologia Che utilizza la luce 3D Per rilevare ed evitare Gli oggetti che ci sono in casa Come ad esempio le scarpe Dei giochi Un mobile E comunque Oltre a questo Pulisce veramente benissimo Rimuove anche i batteri Ed è perfetta secondo me Perfetta Tra l'altro guardate che bella Che è sosto Qua comunque Vanno messe le spazzole Guardate Aspettate che le andiamo subito a mettere Una E queste qui poi Andranno a girare E a pulire tutto il pavimento Ma poi guardate anche le ruote Raga Vedete come fanno? E riesce anche a salire sulle cose Anche perché ha tipo degli ammortizzatori Vedete come fanno le ruote Ma la cosa super importantissima È che possiamo anche personalizzare La pulizia della nostra casa Con la navigazione True Mapping Cioè addirittura Ma io non ci credo Cioè questo aspirapolvere È veramente una cosa super innovativa Di conseguenza raga Utilizza la navigazione laser Per scansionare E mappare Tutti i nostri pavimenti Quindi anche dall'applicazione Noi possiamo appunto decidere Dove far andare il nostro aspirapolvere Se ad esempio Noi stiamo ancora dormendo L'aspirapolvere Lo facciamo girare soltanto In sala In bagno Nell'altra cameretta E non nella stanza In cui o stiamo dormendo O stiamo lavorando Devo dirvi un'altra cosa Questa qui È veramente una cosa pazzesca La batteria dura tre ore Cioè io questo robot Posso farlo andare veramente tre ore Il mio vecchio aspirapolvere Sapete quanta autonomia aveva? Venti minuti Cioè come faccio io a pulire casa In venti minuti? Questa è perfetta Cioè vuol dire che casa Me la pulisce quattro volte Eh sì in tre ore Cioè praticamente Riesce a pulire Fino a 300 metri quadri Di superficie L'auto empty station Ovvero la nostra stazione Di svuotamento È venduta separatamente Dall'osmo pro Ok Impacchettiamo subito Il nostro regalo Anche perché non vedo l'ora Che arrivi Che veda tutto lo sporco E che poi Veda bene come funziona L'aspirapolvere Ho preso della carta regalo Tra l'altro c'è Chloe Che si è svegliata Ciao Chloe E iniziamo ad impacchettarla Mostrate a vedere Che ci metto tantissimo Francia arriva Mi trova qui con questa scatola Io che cerco di mettere La carta regalo One eternity later Guardate come è venuto bene Il pacco Tra l'altro si è svegliata Anche Chloe Vero? Amore Da oggi in poi Anche se perdi il pelo Ci sarà un robottino Che pulirà tutto Ultimo pezzettino di scotch E abbiamo finito No scherzo No scherzo Ne manca solo uno Nascondiamo prima Questo pacco Lo metto in bagno Portiamo un po' Tutta casa Terra in giro Cut Qua e là Buttiamo Uh raga Anche un po' Un po' di caffè Tanto poi Bullisce tutto Un po' Con il cucchiaino No raga Meno male che poi Ho la sorpresa Da fargli vedere Per fortuna Abbiamo il nostro Devolt T8 Ovviamente L'ultimo terra Pulevi fuori Un po' Qua Un po' Spera Di Già Hai già Minato Devo buttare Al tuo caffè A terra Anzi Un po' Di terra Un po' Di terra Ancora un po' Qui Un po' Lì Un po' Cosa Faccio Si è combinato Cosa Com'è andata La visita Chloe Non sono stata Né io Né Chloe Non so Cosa è successo Ah guarda Io Non pulisco Più a sicuro Tre giorni Che siamo Davanti e indietro Lava Pulisci Fai Chloe Chloe Dai amo Pulisci Ma sei fuori Ma Sei a casa Taccato Non fare niente Ma va Se no Puoi pulire Tu Con questo Cos'è Cos'è È per te Amore Mi è regalato Il giorno Apri Cos'è Ma Ta 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 Devot T8 Aspirapolvere Robot Super intelligente Che lava Da solo Pulisce Oltre ad aspirare Lava Amo C'hai panni Per pulire Sì C'è anche la stazione Amo Questo si svuota Da solo Sei contento Amore Quindi adesso Puoi pulire Tranquillamente Tutto questo Io Adesso proviamo A vedere Come funziona Ok Amore Ma stai tanto Pulisci da solo Eh sì Adesso proviamo A vedere Quindi posso Sporcare ancora Sporchiamo Amo lava Ci sono i panni Apriamolo subito E sì Amo Io allora Già gli ho fatto Vedere Più o meno Come funziona Ma adesso Proviamo a vedere Se veramente Pulisce E questa invece Come ho detto Prima è la stazione Di svuotamento Clicca Ta 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 Io se l'ho sempre voluto È bellissimo Amore Amo Sta Vuotando Raga In automatico Scarica Quello lì Che ha raccolto E va tutto A finire Dentro la stazione Di svuotamento E la Peppa E adesso pulisce Vedete raga Che ha queste Spazzoline lunghe E grazie a quelle Riesce a recuperare Anche lo sporco Che si trattiene Negli angoli Ecco Chloe Con la sua Nuova amica Chi è? Chi è Chloe? Tra l'altro Le devo dare anche un nome Mi sa che la chiamo Valentina C'è raga Guardate come pulisce Guarda È pazzesca Comunque guardate la differenza Qui ancora non è passata E qua ha già pulito Si vede proprio la metà Fantastica Il sistema di lavaggio Osmo TM Pro pulisce le mattie Più difficili Come ad esempio Dei liquidi essiccati Il caffè secco In pronti di scarpe Questo sistema di lavaggio Raga Funziona appunto Automaticamente E viene fornito Con panni Usa e getta Che sono quelli Che si mettono Qua sotto E hanno il dentro E possiamo cambiarle Per tutti Comunque raga Tutte le info Ve le metto in descrizione Quindi il link del sito La pagina di Facebook Instagram Vi metto tutti i dati In descrizione Ma adesso Proviamo a vedere Come funziona l'app Io ho già fatto il login L'abbiamo chiamata Valentina Che poi raga C'è anche la barriera virtuale Nel senso che Se io Non voglio che L'aspirapolvere Vada da una parte Posso mettere Sull'applicazione Questa barriera virtuale E il nostro debut T8 Non va da quella parte Possiamo personalizzare La pulizia Della nostra casa Quindi si può mettere Possiamo modificare La potenza Dell'aspirazione E anche Il livello Di flusso d'acqua Amore Questo ci tira via Pure le piastrelle Col tornado Ci leva tutto Altro che L'hai messo Hai messo tornado Sì Raga Messo tornado Massimo Proviamo Vai proviamo E la beppa Amo quindi Ti è piaciuta L'aspirapolvere Robotica Tantissimo 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 Diciamo Questo qui fa tutto Cioè meglio di così Oltre ad aspirare Lava il pavimento Ma vi rendete conto La mia nuova amica No Lei è la mia nuova amica Piccolina È bellissima Raga Comunque vi metto Tutte le info In descrizione Mi raccomando Se vi è piaciuto Questo video Cliccate like Seguitemi su tutti i social Anche a pranzi E andate a vedere Stato di EcoBus E andate a vedere